Un grandissimo benvenuto a tutte le ragazze, ragazzi che già si sono immatricolati. È stata una sorpresa incredibile per me vedere che ci sono già tante persone che hanno scelto Unicam. E un saluto anche a tutte quelle che lo faranno nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Sarà possibile iscriversi ad Unicam fino al 5 novembre e inizieremo i nostri corsi verso il 20-25 settembre. Metteremo a disposizione delle aule preparate appositamente e potranno seguirle queste lezioni in presenza, senza assolutamente abbandonare la possibilità di registrare le lezioni e di erogare a distanza per coloro che non potranno in questo periodo recarsi presso il nostro Ateneo. Tante novità. Un nuovo corso di laurea, informatica per la comunicazione digitale, che si aggiunge a tanti altri corsi di laurea che abbiamo già. Ma soprattutto, e lo dico alle ragazze e ai ragazzi che si iscriveranno, abbiamo ancora supportato loro da un punto di vista economico. Iscriversi ad Unicam costerà ancora meno. Non solo non abbiamo aumentato il contributo studentesco, ma in questo caso abbiamo ridotto del 40% per tutte le nostre matricole il contributo. Resta inteso che l'anno tax area sarà comunque presente, quindi tutti coloro che avranno diritto a non pagare il contributo e che avranno diritto a borse di studio saranno messi nella giusta possibilità. Aggiungo che stiamo implementando in maniera significativa il numero delle borse di studio, le borse welcome, proprio per i ragazzi che arrivano ad Unicam per la prima volta, il numero di posti nella nostra scuola di eccellenza Cardo Urbani. Siamo convinti che dobbiamo continuare a preparare eccellenti ragazze ed eccellenti ragazze, che saranno poi il leader domani.